Allora, io direi che possiamo andare a vedere un po' di immagini, non, insomma, ti riguardano tutta la tua storia del Milan, ma non per vivere di ricordi, però insomma, per fare capire a tutti e per vedere, perché tanti abbonati ci stanno scrivendo e quindi avrei anche qualche domanda più tardi da proporti, però insomma, tra goal e assist, insomma, chi è a mare chi è a tutti. Allora, siccome poi gli abbonati si arrabbiano per me, io ne approfitterei subito per leggerti qualche messaggio che arriva in diretta, perché intanto ci scrivono e poi dopo si arrabbiano e dicono, ah, non mi leggi in diretta, allora lo facciamo subito, perché c'è ad esempio, allora facciamo così, adesso una piccolissima pausa, perché ci sarà il cambio, nel senso che è stato con le varie piangolostiche in questo momento e adesso però c'è una piccola pausa, poi ci sarà Filippo Enzali, siete scatenatissime con i messaggi, soprattutto con le mail, ma ci parlerà in particolar modo del suo libro 300 e ancora non ha finito. Ma adesso la parola andrà con il Benzaghi, una piccola pausa, state con me. La nostra compagnia, come vedete, anch'io mi sono unita del libro di Filippo Enzaghi, insomma, si tratta dei suoi 300 gol e ancora non ha finito, come scrive ovviamente nel titolo, avremo modo di parlare anche di questo. Allora, io vorrei andare subito dal nostro direttore, Mauro Suma. Il lavoro di tutti è importante, generalmente ci concentriamo sempre sulle facce, sui movimenti dei giocatori, ma mai dimenticare il lavoro anche di chi collabora, di chi aiuta, tra responsabili, tra preparatori, insomma, è importantissimo il lavoro di tutti. Io ho ancora un minutino per stare con voi, Claudio, possiamo approfondire anche un po' con Andrea Maldera alla prossima.